Questa luce è importantissima, fa il cristallo vivere. Qua si è visti da autostrada quasi in forma orizzontale, è un edificio che ha delle viste molto lunghe, verso il paesaggio e dal paesaggio, per cui dobbiamo un attimo controllare come queste nuove aperture si relazionano con questa visione distante dell'edificio paesaggio. In fondo è sempre una specie di gola, non lo vedi, non è una torre, perché qua abbiamo torre, qua abbiamo torre, non so se quella roba in mezzo, anzi per dividere le due torre potrebbe essere anche non coperto. No, è per questo che dico che quasi l'idea di lavorare sulla struttura o sui fori di questa pelle e rendere poi trasparente questo ci permette anche di dare un po' di continuità a tutto il lavoro. Ma non dici dividere le due torre dà anche più forza, perché qua le due torre vanno su e così hai un stacco netto. Per la vita interna del piano avere una vista di profondità sulla montagna ci sta anche nella filosofia del progetto. Arrivando da Nordi, dal Brennero, bisogna dare questa visione del logo, quindi abbiamo tutti l'accordo che non deve essere una cosa diciamo kitsch, cioè non deve essere appiccicato sull'architettura e sulla torre, ma più integrato. secondo me, però ripeto, la mia idea è sempre che la brand architecture è tutto l'edificio e non il logo appiccicato sull'edificio. funziona meglio una cosa molto armonica e disegnata, ma non appiccicata sull'edificio. Però lì abbiamo la palestra di roccia che sarà sicuramente un elemento su quale lavorare. in termini anche di memoria, cioè secondo me uno nella testa non ha una sola visione, ma una visione cinematica perché questo edificio cambia molto percorrendo come se è una visione che cambia, per cui ti ricordi anche quello che hai visto secondo il precedente. come, diciamo, i costruttori di macchine, la BMW, la macchina, viene costruita all'intorno del logo. Per ribaltare il discorso ci può dire, Brad Pitt non va in giro con la maglietta I am Brad Pitt o I'm physical sexy body. L'atto della sprezzatura dandy funziona anche per le aziende. Sono gli altri che devo cercare psicologicamente, evidentemente tu ti dichiari, ma come dire, non stai tu vendendoti agli altri, in un certo senso sono gli altri che vengono a cercarti e secondo me questo ribaltamento dà immagine anche. Chiaramente il logo c'è, io dico la maniera, c'era Carlo Mollino che un architetto diceva il significato non sta nelle parole ma nell'accento. Sarai inserbato? Questo è proprio di avere una firma, cioè di dire, è quello, ma è, non è un gigante, però capire... La firma, la firma, quel logo sull'autostrada guarda che... Ma tutti lo sapranno, cioè non pensano... Altro compito. Altro compito. Ma che effetto ti fa vedere la bestia crescere? Io sono contento come una candela dalla visione nord perché questa leggerezza dei solai e quel cortile all'interno che è stato creato, dal sud questa tecnicità che noi siamo, i prodotti dove attacchi la tua vita sul moschitone, sulla corda, sul casco, questa tecnicità e dall'altra parte si arrivi sul piazzale natura, il rispetto e la sintonia con la natura. E questo adesso lo sento e di questo sono contentissimo. Dovremo vedere sull'interno i materiali naturali come vetro, cemento e legno. L'azienda è altamente tecnologica, dall'altra parte la natura e soprattutto da noi arrivano le persone di tutto il mondo e da noi cercano un po' anche il calore interno, un po' la baita, la stube, un po' quel legno e come farlo interagire con la struttura tecnologica, col cemento, questa nobile semplicità. Dopo luglio dobbiamo anche mettere il fotovoltaico su, proprio lì sopra, 4.000 metri quadri perché sennò perdiamo i contributi. Con questo fra l'altro siamo quasi autartici di energia, cioè quello che viene prodotto qua è il consumo, per cui siamo CO2 free. L'architettura piace, cioè io sento questa grossa responsabilità, perché quando tu fai il landmark di una provincia è anche una grossa responsabilità. Ritraducendo questa cosa in termini di paesaggio, perché l'architetto ha due, ha il cliente vero che è quello che commissiona l'edificio e poi ha un cliente nascosto che è la città o il paesaggio. Questa bifacialità è stata molto intenzionale, venendo da sud un'autostrada percepisce l'arco delle montagne di Provolzano e siamo il primo edificio della zona industriale, per cui è come se volessimo mediare tra una scala edilizia e una scala paesaggistica, per cui l'edificio ha una forma sintetica. Ed effettivamente invece a nord questa specie di abbraccio vuole cercare di creare una sorta di luogo urbano, perché oggi le zone industriali hanno una vita anche più complessa e forse noi abbiamo cercato di rispondere con l'architettura, con questo abbraccio che genera un po' un effetto di piazza, vorrei dire, tra l'edificio di fronte e noi e la zona industriale. Quello è effettivamente uno spazio che trasformerà ulteriormente in questa direzione l'edificio, e sarà un luogo estremamente importante, a parte per l'arrivo dalla città, però è un po' di completamento proprio a questa sorta di connessione col paesaggio. Sono anche contento che mi avete convinto di fare la Torre Nord, perché chiude sull'autostrada... Eravamo prima qua sopra e dicevamo, per fortuna che abbiamo fatto la Torre Nord. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.